Doveva uscire dal carcere il 5 agosto, sabato prossimo. Invece Mariano Molon è condannato a 26 anni di reclusione dopo che il 5 marzo del 1999 compì una strage nel Dipartimento di Fisica dell'Università di Padova in Via Bassi e è già libero dallo scorso 21 giugno. Attualmente si troverebbe in una località del Veneto conosciuta solo da polizia e carabinieri, comunque pare fuori dalla provincia di Padova. La sua villa di Conselve era andata all'asta per risarcire le vittime. Molon, che gode anche di una pensione di invalidità dopo che la Commissione Medica Provinciale di Milano lo aveva riconosciuto infermo civile, è stato condannato a 26 anni per omicidio e tentato triplice omicidio ed è libero dopo 18 anni di carcere con 8 anni di anticipo sul termine della pena.